eccoci qua direzione rifugio a Fuciade abbiamo preso la strada questo è il coro verso Passo Valles questi sono i compagni di viaggio dietro di là Passo San Pellegrino e qua sopra San Pellegrino invece di qua direi che sono le piste dove si allena la nazionale italiana femminile Grazie a tutti eccoci questa è la vallata del Fuciade il rifugio dovrebbe essere i tetti là sotto o nascosti questa è la parte verso la strada per il Passo Valles e di là questa è la parte dietro di la Val Benigia fateci vedere in lontananza c'è il mondo della Pala il Mulas questo è il mondo della Pala è il mondo della Pala Grazie a tutti Grazie a tutti